Digital Magics, grazie alla sua partecipazione all'ecosistema delle start-up, propone alle aziende di avvicinarsi al mondo della fabbrica 4.0 con l'innovazione e lo spirito dei ragazzi. Quindi aprire le proprie aziende, i propri processi, i propri servizi all'innovazione che arrivano da quelli più giovani, da quelli che hanno una marcia in più, una voglia di cambiare e di portare nell'azienda l'esperienza che serve per velocizzare questi cambiamenti. Perché fabbrica 4.0 è sì informatica, ma è soprattutto revisione dei processi, della comunicazione tra sistemi. Noi aiutiamo le start-up e le PMI innovative a crescere e cerchiamo di unire questi due mondi, l'energia dei giovani che vogliono fare impresa e l'energia delle eccellenze italiane che vogliono rimanere competitive e innovare grazie a questa sinergia. Grazie